E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Gear At Seed Allora, siamo rimasti qui in aereo Vediamo un po' come continua Lasciate like e commentate eccetera Mi raccomando Forse sono morti, sì Sì, sono morti i due piloti 1, 1, 4 E qui siamo al menu Dove posso modificare il matto se vuoi O andare a pescare Ma per adesso non ho ne... Ok, voglio fare il tutorial del cavolo Lo posso saltarlo? No Comunque raga L'ho già detto in Calditi Brecoz 2 Ma voglio dirlo anche qua Che i giochi come della Wii e della Wii U Potrò farli solo dal venerdì fino alla domenica Potrò registrarli Stessa cosa adesso Stessa cosa vai per i giochi della PSP Qua sul memoratore E il Game Boy E anche il DS Ma anche se i giochi della PSP Del Game Boy eccetera Alla mattina Non mi va tanto di farli Finceramente Ok, grazie per i tutorial Mappa Bene Proseguiamo agli uffici Sì Controllo del Dell'ufficio Vabbè non c'è Ah, nel laboratorio Un tè di leone Quel tizio che abbiamo visto Nel primo episodio Che ha tirato Un mico lì Come si chiama La ragazza La bionda Del magazzino Dove ha trovato il suo compare morto Vabbè non c'è Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Mano. Bene. Ok. anche a tutti. qui è andato. Mettiamo. i miei passi. la scatola. e poi... e poi... una arma da fuoco. un'arma da fuoco. con la fuoco. un'altra fuoco. E' un'altra fuoco. E' un'altra fuoco. 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 Salve Sempissimo, perfetto Venga, sei venuto Allora, devo aspettare un attimo un largo Devo aspettare un attimo Non credo proprio Credo di rivellare l'altra guardia Vediamo Ok, qualcuno l'ho allertato Allora, qua ti metto una bella mina E ora vado qui nell'angolo E metto la scatola Boom Muori Ho fatto bene Mentre là Via, via, via Questa è la scatola Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.